Ciao a tutti! È invidioso il narcisista? In questo video voglio spiegarti come il narcisista vive il rapporto con l'invidia e se possiamo cogliere in questa caratteristica l'invidia, cogliere questa caratteristica per sgamare, tra virgolette, il narcisista. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo di abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande in apposite live. Allora, e veniamo al tema del narcisista. È invidioso il narcisista? Questo è un tema interessante, perché apparentemente il narcisista, soprattutto quell'istrionico, che si crede di essere Superman, che si crede di essere il migliore del mondo, non dovrebbe essere invidioso. Diciamo che i narcisisti utilizzano poi un sacco di forme di manipolazione per poter ottenere dei risultati e siccome utilizzano queste forme di manipolazione è evidente che la spinta a manipolare gli altri è data sì da un'esigenza di controllo, è data sì da un'esigenza di voler dominare, tra virgolette, gli altri, ma a monte c'è proprio il veleno mentale dell'invidia. Anzi, potremmo dire che l'invidia, il veleno mentale dell'invidia, è uno dei carburanti principali di cui si nutre il narcisista. Il narcisista soffre di invidia, si muove per l'invidia, agisce per l'invidia ed è veramente un carburante molto, molto, molto forte. Il narcisista può arrivare a invidiare tutto e tutti. Ed è proprio per questo motivo che ci sono alcune tipologie di narcisisti, con i narcisisti perversi, ad esempio, che vogliono distruggere gli altri. E arrivano al punto tale da avere un'invidia tale che preferiscono, preferirebbero, diciamo, affossarsi anche loro piuttosto di affossare l'altro. Perché proprio, potremmo dire, l'invidia è l'istinto che li muove. Non hanno modalità diverse di muoversi se non quelle dell'invidia. Ed è proprio una caratteristica fondamentale dei narcisisti, l'invidia. Bisogna prenderne atto, è una caratteristica davvero basilare, una caratteristica davvero fondamentale. E' la storiella della rana e dello scorpione, no? Se la rana che dà il passaggio allo scorpione per attraversare il lago, il fiume, e lo scorpione a metà la punge. E la rana gli dice, ma come mi pungi? Io vado a fondo, ma muori anche tu. Lui ci fa, ma questo è il mio istinto. Ecco, il narcisista è proprio, potremmo dire, l'istinto dell'invidia. Perché il narcisista è un reattore a vuoto, fondamentalmente. E di fatto è una persona comunque molto vulnerabile. Però il narcisista, diciamo, anche quello grandioso, diciamo così, è comunque invidioso. Anche il narcisista che pensa di essere il migliore del mondo, troverà qualcosa da invidiare. Anche perché questa, dell'essere il migliore del mondo, diciamo, è una maschera. Il narcisista si sente di essere migliore degli altri apparentemente, ma in profondità ha delle grandi fragilità. Allora, ci sono quelli che credono che il narcisismo divida un po' le due tipologie, no? Cioè che l'invidia divide un po' le due tipologie del narcisista. Il narcisista overt dal narcisista covert. Il narcisista covert è quello che è più succube, diciamo così, che si presenta con basso profilo e che stimola senza di colpa. In realtà io credo che tutti i narcisisti siano mossi fondamentalmente dall'invidia. Perché l'invidia è praticamente quel veleno mentale che divide, che nasce dalla rabbia. Perché la rabbia, esistono due veleni mentali, fondamentalmente, secondo gli insegnamenti del buddismo, ad esempio, che sono la rabbia e l'attaccamento. E dalla rabbia poi discendono tutti altri veleni mentali, tra cui l'invidia. Dall'attaccamento nascono le gelosie, nel senso del possesso, eccetera. Ma l'invidia è figlia della rabbia. E il narcisista vive di rabbia, si nutre di rabbia. Anche il narcisista istronico agiscono poi fondamentalmente mossi da questo veleno mentale. Per cui un modo anche per sgamare il narcisista è capire se hanno invidia di qualcosa, di qualcuno, di noi o di qualcun altro. È importante, è evidente che non tutte le persone invidiose sono narcisiste. Però diciamo che se noto invidia, noto, ad esempio, come faccio a capire se è una persona invidiosa? Beh, è molto semplice. Ad esempio, parlo dei successi di qualcun altro e se noto, ah, hai visto tizio Caio, che bravo, è riuscito a avere questo e a avere quello. Se noto che quando elogio qualcun altro, racconto i successi di qualcun altro, questa persona mi dà dei segnali di rifiuto, raschia, si tocca al naso, va indietro, scarica la tensione in questo modo, si tocca al naso in questo modo, in questo modo, beh, significa che in realtà prova invidia. Prova invidia per i successi altrui. Perché poi l'invidia, alla fine, l'essenza dell'invidia è provare, diciamo, rabbia, appunto, per i successi altrui. Per quando gli altri le cose vanno bene. Ecco, questo è un test molto utile. In realtà, se capisco che una persona è invidiosa, dovrei già togliermela dai piedi, perché è un elemento sufficiente per togliersela dai piedi. Però, se poi noto che c'è altre caratteristiche, diciamo, che potrebbero rimandare al narcisismo, tipo cerca di isolarmi, cerca, o magari fa love bombing, o qualcosa del genere, beh, insomma, mettendo assieme tanti indizi, poi alla fine fanno una prova, no? Per cui è importante riuscire a liberarsi, insomma, di questa tipologia di persone. Che non ci porteranno nulla di buono, insomma. Ci porteranno soltanto stati di sofferenza, di malessere. Ci porteranno soltanto stati di sofferenza, ci porteranno soltanto stati di malessere. Per cui è veramente meglio togliersi dai piedi. Perché la vera essenza della felicità sta nell'abbandonare tutte le cose potenzialmente pericolose, potenzialmente dannose, o dannose di fatto che ci generano sofferenza, e nel promuovere, valorizzare tutte le situazioni invece positive. E quindi togliamoci dai piedi. Sette di bastoni e fuori dai maroni. Perché molto meglio, diciamo, correre il rischio di perdere un non narcisista, ma con buona potenzialità che beccarsi poi il narcisista. Quindi nel dubbio è meglio lasciar perdere. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale attivando la campanella appunto e ti puoi abbonare anche al canale. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande in apposite live. Ciao a tutti!